Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita Oggi siamo su Aster Exodus, un gioco sviluppato dagli Atomic Kaiser e distribuito dagli Slytherin, che è la seconda volta che sento perché già mi avevano contattato per quanto riguarda Empires a parte un gioco che ho portato tempo e tempo fa il gioco al momento è solo in inglese o spagnolo ma che mi fa ben sperare è il fatto che ho visto delle discussioni su Steam c'è chi dice che magari qualche lingua potrebbe arrivare Empires a parte ad esempio è stato tradotto qua ci sono molti più testi però quello è un altro discorso e c'è chi dice anche che il comparto testuale del gioco sarà molto semplice da modificare e quindi il gioco si potrebbe prestare anche bene ad una raffazzonatissima traduzione grazie a Google Translator, Dio me ne voglia allora Astra Exodus è un 4x quindi espandi, conquista insomma sullo stile di Master of Orion, sullo stile di Stellaris tra i due più Orion perché è a turni ma mi ha ricordato per molti versi Stellaris appunto per alcune cose che andremo a vedere il gioco si divide tra due modalità una campagna in cui possiamo andare a settare le nostre condizioni e un'altra è una modalità campagna con i dialoghi, le scelte multiple un'altra differenza è che gli eroi nella modalità campagna li incontreremo nel corso dell'avventura nella modalità sandbox li troveremo in modo del tutto casuale iniziamo magari con una modalità semplice abbiamo già qui, facciamo una difficoltà marine, andiamo avanti e vedete che qua ci sono tutte le fasi di conversazione con i vari personaggi tra Santiago e Maris Garibaldi che è il comandante insomma si parte, dobbiamo andare a liberare dai pirati un settore saltiamo il tutorial alla fine vi mostro quella che è l'interfaccia allora il gioco esce il 30 di gennaio, non so se lo vedrete prima o dopo la data di uscita, ma lo sto provando una decina di giorni prima ed è stato detto che è già praticamente stabile e completo abbiamo il nostro settore di partenza che cambia ogni volta a livello di nome c'è da prenderci un pochino la mano perché non ha quella animazione che aveva stellare in cui zoomava, si appariva è molto schematico qua abbiamo la panoramica dei sistemi inizio a farvi vedere quelli che sono il pannello del governo quindi tutto quello che noi possediamo al momento i tratti del nostro leader e tutto quello che abbiamo al momento all'interno dell'impero ovviamente il gioco non è per tutti ve lo inizio a dire qualcuno ha già visto che in inglese avrà già chiuso il video è un gioco, non dico di nicchia ma dato che voi siete tanti avete tante personalità, tanti gusti diversi questo è senz'altro un gioco per chi cerca qualcosa di simile a un Master of Orion o uno Stellaris insomma una cosa del genere e altri giochi simili quindi io mi dedico soprattutto a loro quest'oggi ci si muove con Vazd oppure con la rotellina centrale del mouse qua in alto abbiamo le risorse che possediamo con quello che abbiamo consumato insomma quello che possediamo abbiamo il cibo abbiamo i metalli abbiamo l'organic che ci serve per delle costruzioni abbiamo i rari quindi le cose preziose le fregate e quelle che abbiamo in uso in realtà sarebbe il termine di quante possiamo averne e di quante ne abbiamo in uso al momento il rateo delle tasse abbiamo il morale abbiamo i crediti e qua i punti di ricerca abbiamo anche la ricerca la coda di ricerca che si divide tra tantissime cose e per ogni livello devo ancora onestamente capire come raggiungere il livello più elevato perché in questo momento possiamo andare solo su questo credo completando un tot di ricerche si sale con questa valuta qui e si riesce a fare quella successiva immagino comunque in pratica l'ingegneria in questo caso ci dà la possibilità di terraformare oppure un drive a fissione cioè un reattore a fissione qua abbiamo delle armi quindi possiamo andare a modificare poi sviluppando questa tecnologia e montarla sulle navi il governo con il bunker con tutta la descrizione il costo di mantenimento di ogni cosa commercio stellare ci dà più 25% di commercio generato abbiamo andando avanti le truppe quindi abbiamo la fanteria abbiamo il concilio militare quindi ci costa meno 25% ogni truppa i fucili al plasma quindi ci fa più 50% all'attacco delle truppe leggere l'attacco pesante abbiamo la power quindi il supporto vitale ambientale il sensore stellare sono tutte cose che poi vi farò vedere andranno poi montate sulle navi questo abbiamo altre strutture l'estrattore di superficie che normalmente è quello che mi interessa un pochino di più armature in titanio no sono quelle avanti internal bulkhead una cosa rinforzata per gli scudi per la nave per l'armatura delle navi costruzioni abbiamo il dockyard spaziale quindi si possono andare a produrre anche delle estrazioni spaziali ma ve lo faccio vedere dopo qua abbiamo delle specializzazioni e qua abbiamo delle speciali e non avevo nulla mi ispirerebbe quasi l'estrattore di superficie così giusto per e avviamo la ricerca la ricerca richiederà 30 turni come vi ho detto è un gioco a turni ora andiamo a vedere quelli che sono i pannelli sotto dove abbiamo il pannello della colonia in cui vediamo tutto interamente tutte le colonie che possediamo al momento con i vari dati tra l'altro possiamo andare qua in questa barra qui a modificare adesso in questo caso non lo possiamo fare è la priorità diciamo del pianeta base di supportare le altre colonie possiamo in questo caso dato che è in Idol possiamo andare a produrre qualcosa quindi in questo caso possiamo produrre una nave possiamo produrre un po' come succede anche su credo Stellaris ma anche Civilization andare a potenziare i commerci gli introiti di crediti housing construction allora adesso intanto qua vediamo che qui il cibo ne viene consumato 8 prodotto 9 e il numero di persone che ci stanno lavorando che possiamo andare a spostare i metalli quindi con i minatori la costruzione quindi con i costruttori i lavoratori l'inquinamento quindi abbiamo anche il commercio con i mercanti e la ricerca con gli scienziati quindi in questo caso possiamo andare a togliere uno lì e metterlo qui vedete che al momento siamo parecchio sbilanciati quindi non lo farei qua è lo stato l'abitabilità del pianeta abbiamo il consenso quindi il morale la corruzione la peculiarità di questo mondo è meraviglia naturale possiamo andare a produrre qualcosa io farei magari la Virtus 1 35 turni è una nave da battaglia il combattimento è molto carino poi vabbè qua nel governo abbiamo sempre la possibilità di aggiungere un governante un errore ma gli eroi al momento non li possediamo qua abbiamo i pianeti infatti vedete che siamo in questo sistema poi qua in alto i tasti servono per dividere le varie colonie i vari pianeti per tipologia quindi renderlo un po' più semplice e Octans che è il sistema ha al momento tre pianeti questo è dove abbiamo noi tutti gli edifici e in questo caso vedete che abbiamo una exofarm e ogni pianeta adesso non starò lì a analizzare tutto perché vi sto presentando il gioco però insomma questo produce più uno cibo per ogni farmer ci costa un tot ci richiede un tot di manutenzione la Xenomin che è più uno metallo abbiamo il laboratorio di ricerca più uno di ricerca ogni scienziato abbiamo la Colonial Factory più uno di costruzione e abbiamo l'Orbital Fort perché in pratica poi andremo a vedere anche il combattimento possiamo anche attivare difese nel caso in cui fossimo in spazio per un conto se siamo in spazio orbitale il combattimento comprenderà anche la presenza di queste stazioni tornando indietro possiamo andare a vedere gli altri pianeti che recuperando la nave giusta possiamo andare anche a colonizzare ovviamente questo è un pianeta con un'abitabilità molto bassa perché comunque Baren dovrebbe essere proprio disastrato e questo invece è un pianeta Giove quindi gassoso un gigante gassoso insomma qua abbiamo invece cliccando su questa navicella qui abbiamo le navi che abbiamo che fanno parte della nostra flotta sono due due fregate possiamo segnare anche qui un ammiraglio ma al momento non ne abbiamo e poi cliccando sulla nostra nave possiamo andare a fare i viaggi e andando a vedere quanti turni ci richiede il trasferimento in quello specifico posto allora abbiamo appunto le flotte che abbiamo visto prima quindi la possibilità di selezionare spezzare le flotte e farne comporne altre la ricerca che abbiamo visto prima il design che è molto bello perché possiamo andare a creare un nuovo design o modificarne uno esistente quindi con le varie componenti vediamo anche in che modo può attaccare la nave perché nella modalità strategica quindi nel combattimento dovremmo andare a modificare in questo caso vado a possiamo andare a potenziare un po' qui a stile Stellaris quindi con i vari propulsori diamo dei parametri diversi alla nave vedete qua quando noi cliccheremo faremo muore la nave in modo tattico vedremo anche il campo d'azione delle varie torrette dei vari scudi insomma sarà molto importante in ambito tattico il poter progettare una nave lì diplomazia che è ancora vuota perché poi si potrà andare a commerciare anche con altri gli eroi è un campo vuoto il database è molto importante perché è una sorta di tutorial qualora noi avessimo dei dubbi su come si amministra un pianeta ci sono video per ogni gusto con il parlato e anche lo scritto lo space combat è molto bello guardate com'è che si combatte così si vanno a muovere le navi cliccando si va a combattere ma io aspetterei per farvi vedere il tutto qui la data stellare quello che è si passa al turno in questo caso io volevo produrre una nave da combattimento anche abbastanza grossa quindi adesso non so faccio una cosa che non si farebbe mai in un gioco del genere perché ci stanno dicendo hai ricercato la superficie lì ok ah la exofarm possiamo farla adesso no non possiamo farla vedete che non devo fare un'altra ricerca ancora allora me ne servono due su due vabbè facciamo facciamo non lo so mi ho fatto uno solo gli altri due sono scartati non si possono più fare quindi bisogna scegliere in modo oculato l'orbital ok 30 turni dovrebbe no era meno non erano 30 erano 15 perché richiedeva 30 punti ricerca ne abbiamo due quindi direi due a turno ok abbiamo ricercato anche quello adesso volendo stiamo sulla terra possiamo dirgli di costruire il nuovo edificio il surface extractor o l'orbital dockyard che ha più 10% della produzione della nave e qua invece più uno di rari che al momento non ne abbiamo disponibili ma ok lo possiamo costruire ci vuole un tot al momento abbiamo costruito la nostra devo ancora capire bene il modo di perché vedete qua è una nave da battaglia battleship e queste sono delle fregate quindi io ho provato già un combattimento ma sono morto perché non attaccavano le navi poi ho scoperto che dovevano essere da combattimento insomma però adesso io mi prendo la mia bella nave e iniziamo andare a vedere di farvi vedere un combattimento in sei turni quindi passiamo il turno vedete velocemente poi ovviamente voi dovete andare ad amministrare tutta la vostra cosa è un po' come se giocassi a Stellaris continuando a fare cambia turno quindi che cacchio succede lì ok questo è il sistema di Maya che al momento dentro non ha nulla ha un mondo normale che possiamo colonizzare e una sorta di non so anomalia vabbè non so adesso perché mi sta dando la nostra ah perché c'è un portale che mi porta là no ok non mi interessa voglio voglio muovere questa cosa qui qui no 4 turni ma non posso andarci ci andiamo lì in 4 turni ok lì c'è un portale in questo sistema qui c'è un portale che ci porta là va bene abbiamo una nave galactic me ne me ne minaccia insomma la forza è decisamente più potente la nostra possiamo auto risolverla auto ritirata e andiamo a combattere cosa molto bella la musica che parte in questo caso quando parte il combattimento possiamo scegliere la velocità possiamo scegliere di mostrare far mostrare vedete io posso selezionare solo questa non queste due vabbè comunque musica molto bella vado a mostrare anche la la zona d'azione quindi io guardo ok eccola lì posso accelerare un pochino la velocità non ho ancora capito il perché non mi faccia controllare le due fregate probabilmente sono navi importanti che non sono da combattimento adesso quindi vabbè iniziamo ad avvicinarci quando entreranno a portata di alcune armi potremmo scegliere di boost engine per aumentare antastrike craft per sparare di un certo tipo questo non dobbiamo farlo perché l'ha ritirata l'ho fatta per sbaglio prima io direi che antastrike craft ok punta il nemico più vicino quindi direi che appena superano il giallo iniziamo il verde scusate iniziamo a puntarlo stanno già sparando dei colpi ok anche noi però perfetto direi di dare un bel booster vedete che bello alla nostra nave che sta già sparando potrebbe essere un faster than light vista così cioè fatta veramente bene devo ammettere ok intanto stiamo iniziando a danneggiare l'altra nave qua vedete una nave vedete l'altra con le varie specifiche di parametri qua in alto scusate la volontà insomma la quantità di navi dell'esercito la potenza l'ordinance le bombe che hanno a disposizione di parametri ce ne sono tanti continuiamo tolgo la pausa continuiamo direi che sembra uno scontro abbastanza impari perché stiamo gli stiamo sparando adesso potrei dirgli di andare di là ma intanto voi continuate boost engine non lo possiamo più fare ve l'hanno già fatto però io credo che vedete qua il verde ci sta dicendo un po' total war che la battaglia sta volgendo in nostro favore anche se anche se abbiamo delle parti danneggiate insomma quindi le altre due navi non so dove siano andate perché si sono spostate non sono da combattimento però va bene allora abbiamo da qualcosa da scaraventargli addosso no magari ci sono anche delle cose tipo possibilità di lanciare le bombe che io non conosco però io direi di ok ok ce l'abbiamo fatta un po' per con qualche danno insomma però ce l'abbiamo fatta ce l'abbiamo fatta ce ne sono altri spero di no ok no ok è stato si è concluso qua il consigliere ci dà missile dei consigli se no sarebbe stato consigliere i missili le armi missilistiche che sono autoalimentate ok ah ok per funzionare bene i missili hanno bisogno di un un gran punteggio di ordine se da quello che ho capito però penso che se un castra se sta secondo il video mi potrebbe dire allora abbiamo questo pianeta qui che sembra molto bello se facciamo colonize planet perfetto abbiamo colonizzato un pianeta e quindi a questo punto il l'impero inizia a nascere abbiamo un sistema lì un sistema qui è molto più schematico di altri giochi devo dire ma se il gioco dal mio punto di vista vi dico perché a me sembra assolutamente ben fatto non dà secondo me molto di diverso rispetto ad altri se non questa cosa del combattimento che mi piace molto perché a me io sono sempre tentato di rigiocarmi e registrare nuovamente star sector che ho adorato non è la stessa cosa ma il combattimento visto così come un sacco d'altri giochi con lo visuale così mi piace veramente tanto quindi io credo che se il gioco avrebbe tradotto in italiano potrei anche buttarmici e non uscirne più stellaris diventa troppo complicato qua dà più o meno le stesse meccaniche ma a quanto visto finora in modo molto molto più semplice quindi abbiamo colonizzato un pianeta vediamo se è così semplice che possiamo colonizzare un altro direi di no perché perché al momento ah siamo bloccati non abbiamo più spazio per le fregate non abbiamo abbiamo buttato via una fregata la fregata la fregata l'abbiamo persa perché è andata sul pianeta vabbè intanto se andiamo sul pianeta che abbiamo colonizzato possiamo andare a costruire una prima cosa ma new design mi fa fare un design di una nave ma non mi interessa ovviamente vi dicevo se si combatte sopra un pianeta e abbiamo costruito la stazione spaziale per difendere quel pianeta comparirà quindi dovremo magari muoverci muovere le nostre navi intorno a quella stazione in modo da poter poterla difendere correttamente niente poi io spero poi che vedano questo video anche il PR Paolo che mi ha dato la chiave di gioco magari se ho letto qualche cavolata spero possano correggermi insomma vi ho fatto vedere quella che è un la prima un primo sguardo di quello che è Asta Exodus non so ancora dirvi il pezzo perché il gioco come ho detto non è ancora uscito e al momento della registrazione mancano ancora una decina di giorni non so dirvi quanto possa costare non so dirvi se è in italiano speriamo di poter trovare presto una domanda una risposta a queste domande mi vengono le frasi alla Luca Giorato e fatemi sapere anche voi che cosa ne pensate di questo gioco e alla prossima ragazzi e ciao ciao